10. Nelle città termali, e forse anche in tutta Europa, i direttori e i maître d'hotel, nell'assegnare le stanze ai clienti, si fanno guidare non tanto dalle esigenze e dai desideri dei clienti stessi, quanto dalla considerazione in cui essi li tengono. E bisogna dire che di rado si sbagliano, ma alla nonna, chissà perché, era stato assegnato un appartamento così ricco da sfiorare l'esagerazione. Quattro stanze sontuosamente arredate, con bagno, locali per la servitù, una stanza per la cameriera, eccetera eccetera. Effettivamente in quelle stanze appena una settimana prima aveva alloggiato non so quale Grand Duchesse e naturalmente questo veniva subito detto ai nuovi clienti, per accrescere ancora il pregio dell'appartamento. La nonna è stata condotta, o meglio portata, per tutte le stanze e lei le ha passate tutte in rivista con l'attenzione più severa ed esigente. Il maître d'hotel in persona, un uomo già anziano con la testa calva, accompagnava rispettosamente la nonna durante l'ispezione. Non so proprio per chi mai avessero preso la nonna, ma certo tutti la consideravano un personaggio di straordinaria importanza e soprattutto ricchissima. Nel libro avevano addirittura scritto Madame la Generale Princesse de Tarassiviceva, sebbene la nonna non fosse affatto principessa. La servitù che si era portata dietro, lo scompartimento riservato nel vagone e un'infinità assolutamente superflua di valigie, bauli e casse arrivati con la nonna, avevano posto le fondamenta del suo prestigio. Poi la poltrona, il reciso tono della voce, le domande eccentriche formulate senza la minima vergogna e anzi in un tono che non ammetteva repliche. In una parola tutto l'aspetto della nonna, così così brutta, così brusca, così imperiosa, avevano fatto tutto il resto, guadagnandole il generale rispetto. Durante l'ispezione la nonna ogni tanto comandava improvvisamente che arrestassero la poltrona, indicava qualche oggetto e rivolgeva le domande più inaspettate al povero maestro d'hotel, che pur continuando a sorridere rispettosamente, cominciava ad avere un po' di paura. La nonna faceva le sue domande in francese, lingua che peraltro parlava abbastanza male, così che a me toccava fare da interprete. Le risposte del maître perlopiù non le piacevano o le sembravano insoddisfacenti. Del resto lei non faceva mai domande che avessero qualche scopo concreto, ma chiedeva quel che le veniva in testa. Per esempio, fermandosi a un tratto davanti a una copia piuttosto mediocre di un famoso quadro a soggetto mitologico, chiedeva al maître «di chi è questo ritratto?». Il poveretto rispondeva che probabilmente si trattava di una contessa. «Ma come mai non lo sai? Vivi qui e non sai queste cose? Perché si trova qui? Perché ha gli occhi storti?». Naturalmente il povero maître non sapeva rispondere in maniera soddisfacente a tutte queste domande e si impappinava. «Ma guarda che cretino!», commentava la nonna in russo. La portavano oltre e la stessa storia si ripeteva davanti a una statuetta di Sassonia, che la nonna osservava a lungo ordinando alla fine che fosse portata via Dio sa perché. Alla fine si è messa ad assediare il maître, chiedendogli quanto costavano i tappeti della camera da letto e dove li tessevano. L'altro ha promesso di informarsi. «Ma che asini!», ha bofonchiato la nonna, per rivolgere subito dopo tutta la sua attenzione al letto. «Ma che sontuoso baldacchino! Disfate il letto!» «Hanno disfatto il letto!» «Ancora, ancora disfate tutto! Togliete i guanciali e le federe e alzate il piumino!» Hanno levato tutto quanto e la nonna ha ispezionato attentamente ogni cosa. «Meno male che non ci sono cimici! Togliete tutta la biancheria e mettete la mia biancheria e i miei guanciali! Però qui c'è troppo lusso! E che se ne fa una vecchietta come me di un appartamento come questo? Da sola mi ci annoierò! Alexei Ivanovich vieni a trovarmi più spesso, quando non hai da insegnare ai bambini! «Ma io da ieri non sono più al servizio del generale!» Ho risposto. «Vivo qui all'albergo completamente per conto mio!» «E perché mai?» «Giorni fa è arrivato qui un barone tedesco di Berlino, un pezzo grosso, con la baronessa sua moglie. Ieri alla passeggiata gli ho rivolto la parola in tedesco senza rispettare la pronuncia berlinese.» «Beh, e allora?» «Il barone l'ha considerata un'insolenza e se ne è lamentato col generale, che ieri mi ha licenziato.» «Ma tu non l'avrai mica insultato quel barone! Del resto, anche se l'avessi insultato poco male.» «O no, al contrario, è stato il barone ad alzare il bastone contro di me.» «E tu, babbeo, hai lasciato che trattassero in questo modo il tuo precettore?» ha detto la nonna rivolgendosi improvvisamente al generale. «E per giunta l'hai cacciato! Ma siete proprio dei babbei! Tutti quanti dei babbei!» «Non si preoccupi, zietta.» Ha replicato il generale con una certa altezzosa familiarità. «Io sono benissimo in grado di provvedere da solo ai fatti miei. E poi Alexei Ivanovic non li ha riferito esattamente come sono andate le cose.» «E tu hai tollerato una cosa simile?» Ha ripreso la nonna rivolgendosi a me. «Io volevo sfidare a duello il barone.» L'ho risposto nel modo più tranquillo e modesto possibile. Ma il generale si è opposto. «E tu perché ti sei opposto?» ha continuato la nonna rivolgendosi di nuovo al generale. «E quanto a te, babbino?» ha aggiunto rivolta al metra. «Ora vattene! Verrai quando ti si chiamerà! Che stai a fare lì a bocca aperta! Non posso soffrire questi musi da tedescacci.» Il maître si è inchinato ed è uscito. Naturalmente senza aver capito il complimento che gli aveva rivolto la nonna. «Mi perdoni, zietta, ma sono forse possibili i duelli?» ha ripreso il generale con un sorriso ironico. «E perché non sarebbero possibili? Gli uomini sono tutti dei galletti e quindi dovrebbero battersi. Vedo che siete tutti dei babbei che non sanno difendere l'onore della loro patria. Su, alzatemi! Potapic, dai disposizioni perché due portatori si tengano sempre pronti. Prendili a servizio e mettiti d'accordo con loro. Due basteranno. Bisogna portarmi solo sulle scale, mentre in piano, per la strada, basta spingere. Tu diglielo e pagali in anticipo saranno più rispettosi. Tu poi stammi sempre vicino e tu, Alexei Ivanovic, fammi un po' vedere questo barone alla passeggiata. Un von barone. Come quello vale la pena di vederlo. Beh, e allora dov'è questa roulette? Le ho spiegato che la roulette si trovava nelle sale del casino. Subito la nonna mi ha fatto una quantità di altre domande. Erano molte le roulette. Erano molti. I giocatori si giocava per tutto il giorno. Come era organizzato il gioco? Alla fine le ho risposto che la cosa migliore era andare a vedere con i propri occhi, giacché era difficile descrivere ogni cosa. E allora portatemi là direttamente! Tu va avanti, Alexei Ivanovic! Come, zieta? Non vuole nemmeno riposare dopo il viaggio? Ha chiesto premurosamente il generale. Sembrava un po' inquieto ed evidentemente anche tutti gli altri condividevano la sua inquietudine e si scambiavano delle occhiate fra di loro. Probabilmente per loro era un po' imbarazzante o forse addirittura se ne vergognavano accompagnare la nonna al casino, dove quella vecchia avrebbe potuto combinare qualcosa di eccentrico, ma questa volta in pubblico. Eppure tutti quanti si sono offerti di accompagnarla. E perché dovrei riposare? Non sono mica stanca. E poi sono stata ferma per cinque giorni interi. Più tardi andremo a vedere dove sono queste fonti e queste acque curative. E poi anche quello, come hai detto, Prascovia guglia o qualcosa del genere. Sì, guglia, nonna. Beh, questa guglia. E che altro c'è qui? Ma qui ci sono tante cose da vedere, nonna, cominciava a dire Polina un po' imbarazzata. Ma se non lo sei neanche tu, Marfa, verrai anche tu con me, ha aggiunto la nonna rivolta alla sua cameriera. Ma lei perché dovrebbe venire, zietta? È intervenuto subito il generale. E poi naturalmente non la faranno entrare. Perfino Potapic sarà difficile che lo ammettono al casino. Sciocchezze! Siccome è una serva, dovrei mandarla al diavolo. Anche lei è una persona come un'altra. Stiamo in viaggio già da una settimana eppure lei ha voglia di vedere qualcosa. E con chi dovrebbe uscire se non con me? Da sola non avrebbe nemmeno il coraggio di mettere fuori il naso. Ma, nonna, ma forse ti vergogni di venire con me? E allora restatene a casa. Nessuno ti obbliga. Guarda un po' che gran generale. Eppure anch'io sono una generalessa. Del resto, perché dovreste venirmi tutti dietro in corteo? Andrò a vedere tutto quanto con Alexei Ivanovic. Ma De Grio ha cominciato a insistere perché tutti la accompagnassero, sfoderando le frasi più amabili sul piacere che procurava loro l'accompagnarla e così via. Così tutti si sono mossi. «Elle est on be an enfance», ripeteva De Grio al generale. «Se l'elle ferra des bêtises». Non sono riuscito a sentire nient'altro, ma evidentemente il marchese. Perseguiva certi suoi scopi e forse, chissà, aveva ripreso ad accarezzare qualche speranza. Dall'albergo al casino c'era mezza versta di strada. Abbiamo seguito il viale dei castagni fino al giardino pubblico e di lì siamo entrati direttamente al casino. Il generale si era abbastanza tranquillizzato, giacché il nostro corteo, anche se un po' eccentrico, aveva pur sempre un'aria dignitosa e decorosa. Del resto non c'era nulla di strano nel fatto che in una città termale facesse la sua comparsa a una signora ammalata, priva dell'uso delle gambe. Ma evidentemente al generale faceva paura il casino. Perché mai una ammalata priva dell'uso delle gambe e vecchia per giunta si recava al casino. Polina e Mademoiselle Blanche camminavano i due lati della poltrona della nonna. Mademoiselle Blanche rideva, sfoggiava un'allegria piena di modestia e talora addirittura civettava molto amabilmente con la nonna, tanto da guadagnarsi nelle lodi. Polina, che si trovava dall'altro lato, era costretta a rispondere continuamente alle innumerevoli domande che le faceva la nonna. Domande di questo genere. Chi è quello che ci è passato accanto? Chi è quella signora in carrozza? La città è grande? Il giardino è grande? Che alberi sono questi? Che monti sono quelli? Ci sono qui le aquile? Cos'è quel tetto così buffo? Mister Astley mi camminava a fianco e a un certo punto mi ha sussurrato che si aspettava molto da quella mattinata. Potapic e Marfa venivano subito dietro la poltrona della nonna. Potapic in frac con la cravatta bianca ma col berretto in testa. Marfa, una zitella sulla quarantina dalle guance rosse ma con i capelli già un po' grigi, con la cuffia in testa, l'abito d'indiana e delle scricchiolanti scarpe di capretto ai piedi. La nonna si voltava assai spesso per rivolger loro la parola. De Griot e il generale erano rimasti un po' indietro e discutevano tra loro con calore straordinario. Il generale aveva un aspetto straordinariamente abbattuto. De Griot invece parlava con aria risoluta. Forse cercava di confortare il generale ed evidentemente gli dava dei consigli. Ma la nonna aveva ormai pronunciato la frase fatale. Denaro non te ne do. Forse a De Griot una tale dichiarazione sembrava inattendibile ma il generale conosceva bene la zietta. Ho notato che De Griot e Mademoiselle Blanche continuavano a scambiarsi delle strizzatine d'occhio. Quanto al principe russo e al viaggiatore tedesco, a un certo punto li ho scorti in fondo al viale. Erano rimasti indietro e se ne andavano per i fatti loro. Siamo arrivati al casino in trionfo. Il guardaportone e i lacchè di lì ci hanno dimostrato la stessa rispettosa considerazione della servitù dell'albergo. Tuttavia ci guardavano con una certa curiosità. Dapprima la nonna ha dato ordine che la conducessero in giro per tutte le sale. Ha lodato certe cose mentre altre la lasciavano perfettamente indifferente. Faceva domande su tutto. Finalmente siamo arrivati alle sale da gioco veri e propri. Il lacchè che stava davanti di sentinella davanti alla porta chiusa dapprima era stato lì, impalato, come impietrito dallo stupore, ma poi si è affrettato a spalancare la porta. L'apparizione della nonna alla roulette ha prodotto una grande impressione sul pubblico. Intorno ai tavoli della roulette e all'estremità della sala, dove era situato il tavolo del 30 e 40, si affollavano circa 150 o 200 persone in più file. Quelli che erano riusciti ad aprirsi la strada fino ai tavoli da gioco mantenevano saldamente la posizione conquistata e non cedevano il posto finché non perdevano, già che non era permesso restare lì come semplici spettatori occupando inutilmente un posto da gioco. Benché intorno al tavolo fossero disposte delle sedie, tuttavia ben pochi erano i giocatori che le occupavano, specialmente quando c'era grande affluenza di pubblico, già che, stando in piedi, ci si poteva stringere di più e quindi guadagnar posto, ed era anche più facile puntare. La seconda e la terza fila si addossavano alla prima in vigile attesa, ma ogni tanto qualche impaziente insinuava la mano attraverso la prima fila per puntare il suo denaro. Perfino dalla terza fila qualche volta delle mani particolarmente abili riuscivano a superare la barriera e a effettuare delle puntate. Ma dopo non più di cinque o dieci minuti cominciavano delle discussioni per delle puntate contestate. La pulizia del casino d'altronde era abbastanza buona, ma naturalmente era impossibile evitare l'affollamento, anzi lo si vedeva favorevolmente perché ciò era vantaggioso per il casino. Comunque gli otto crupie seduti intorno al tavolo seguivano con la massima attenzione le puntate, pagavano e risolvevano le contestazioni non appena ne sorgevano. Nei casi estremi chiamavano la pulizia e la faccenda si risolveva in un minuto. I poliziotti si trovavano nella stessa sala tra gli spettatori, opportunamente travestiti, così che era impossibile riconoscerli. Essi tenevano particolarmente d'occhio i ladruncoli e i ladri professionisti, di cui alla roulette c'è sempre una grande quantità, date le grandi possibilità che essa offre all'esercizio della loro professione. Effettivamente in ogni altro luogo si può rubare dalle tasche o forzando serrature e in caso di successo la faccenda in genere finisce male. Qui invece basta accostarsi al tavolo della roulette, cominciare a giocare e a un tratto sotto gli occhi di tutti prendersi l'altrui vincita e cacciarsela in tasca. Se nasce una discussione il ladro giura e spergiura alzando anche la voce che la puntata era proprio sua. Se la cosa viene fatta abilmente e i testimoni sono incerti il ladro riesce molto spesso a prendersi i soldi. Naturalmente se non si tratta di una somma importante. In quest'ultimo caso infatti la puntata avrà certamente attratto l'attenzione dei croupier o di qualche altro giocatore, ma se invece non si tratta di una somma notevole, talora è lo stesso proprietario che rinuncia a continuare la discussione per paura di uno scandalo e abbandona il posto. Se invece si riesce a smascherare il ladro, allora lo buttano fuori svergognandolo. La nonna osservava tutto ciò di lontano ma con avida attenzione. Le è piaciuto molto il fatto che i ladruncoli venissero buttati fuori. Il tavolo di trente e caronte l'ha interessata poco, mentre le piaceva molto la roulette con la pallina che girava. Alla fine ha espresso il desiderio di osservare il gioco più da vicino. Non capisco come ciò sia successo, eppure i lacche e certe altre persone che si davano molto da fare, per lo più dei polacchi che avevano perduto il loro denaro e offrivano i loro servigi ai giocatori fortunati e a tutti gli stranieri. Sono riusciti lì per lì, nonostante la calca, a liberare un posto per la nonna proprio in mezzo al tavolo, accanto al croupie capo, spingendo fin lì la sua poltrona. Una quantità di visitatori non giocatori, che si limitavano a osservare il gioco rimanendo in disparte, per lo più inglesi con le loro famiglie, si sono subito affollati intorno al tavolo per osservare la nonna da dietro le spalle degli altri giocatori e una quantità di occhialini si sono puntati su di lei. Anche i i piedi cominciavano a nutrire delle speranze, giacché da una giocatrice così eccentrica ci si poteva aspettare qualcosa di eccezionale. Ed effettivamente una vecchia di 70 anni, priva dell'uso delle gambe, che voleva giocare, non era un caso così comune. Anche io mi sono fatto strada tra la folla e mi sono sistemato accanto alla nonna. Potapic e Marfa erano rimasti a distanza, tra la folla. Anche il generale, Polina, De Grio e Mademoiselle Blanche si tenevano in disparte tra gli spettatori. Dapprima la nonna si è limitata a osservare i giocatori, rivolgendomi ogni tanto delle brusche domande a mezza voce. Chi è quello? Chi è quella? Le piaceva particolarmente un giocatore molto giovane all'altra estremità del tavolo, che giocava forte con puntate anche di mille franchi e che aveva vinto, come si sussurrava lì intorno, già circa 40.000 franchi, che giacevano lì davanti a lui in un mucchio d'oro e di biglietti di banca. Era pallido, gli occhi gli brillavano e gli tremavano le mani. Ormai puntava a casaccio, prendendo i denari ammanciate. Eppure continuava a vincere e ad ammucchiare soldi. I lacchegli si davano da fare intorno con particolare zelo, accostandogli da dietro la poltrona e liberandogli quanto più posto potevano per chi avesse più spazio per giocare. E la gente non gli si affollasse intorno, tutto ciò naturalmente in attesa di una ricca ricompensa. Ci sono infatti giocatori che dopo aver vinto distribuiscono oro a manciate, giusto quanto la mano ne tira fuori di tasca nell'entusiasmo della vittoria. Accanto al giovanotto si era già piazzato un po' l'accuccio, che gli si dava da fare d'attorno in tutti i modi, sussurrandogli rispettosamente e continuamente qualcosa all'orecchio, evidentemente indicandogli come doveva puntare, consigliandolo e correggendo il suo gioco naturalmente anche lui con la prospettiva di essere ricompensato alla fine. Ma il giovanotto quasi non l'ascoltava, continuava a puntare a casaccio e a vincere. Evidentemente aveva perso la testa. La nonna l'ha osservato per qualche minuto. «Vagli a dire che la smetta», mi ha detto a un tratto tutta agitata, dandomi una spinta. «Che la smetta subito, raccolga quel che ha vinto e se ne vada, altrimenti perderà, perderà tutto da un momento all'altro». E continuava ad agitarsi quasi soffocando dall'eccitazione. «Dov'è Potapic? Mandate da lui il Potapic! Ma su, diglielo, diglielo!» E continuava a spingermi. «Ma dove diavolo si è cacciato quel Potapic? Sor te! Sor te!» Ha preso poi a dire, rivolgendosi lei stessa al giovanotto. Allora mi sono chinato verso di lei e le ho sussurrato in tono reciso che lì non si poteva gridare a quel modo e che anzi non si poteva neppure alzare un pochino la voce perché ciò disturbava i calcoli e da un momento all'altro ci potevano buttare fuori. «Che rabbia! Quell'uomo è perduto! Ma si vede che lui stesso lo vuole! Non posso nemmeno guardarlo, tanto mi ha scombussolata! Ma guarda un po' che asino!» E la nonna si è bruscamente voltata dall'altra parte. Da quella parte, dal lato sinistro del tavolo, spiccava tra gli altri giocatori una giovane signora con un nanerottolo accanto. Non so chi fosse quel nano. Forse era un suo parente o forse lei lo prendeva con sé solo per fare effetto. Avevo notato già prima quella signora. Si presentava ogni giorno al tavolo da gioco all'una del pomeriggio e se ne andava alle due precise. Ogni giorno giocava un'ora. Ormai al casino la conoscevano e appena arrivava le accostavano una poltrona al tavolo da gioco. Lei tirava fuori di tasca un po' d'oro e qualche banconota da mille franchi e cominciava a puntare in silenzio, con freddezza e facendo i suoi calcoli, segnando all'apis delle cifre su un pezzo di carta e cercando di trovare un sistema secondo il quale, in un determinato momento, si presentassero un certo numero di probabilità favorevoli. Faceva puntate piuttosto alte e ogni giorno vinceva mille, duemila e al massimo tremila franchi, non di più. Dopodiché se ne andava subito. La nonna l'ha osservata a lungo. Beh, eccone una che non perderà. No, quella non perderà certamente. Di dov'è? Non lo sai? Chi è? Dovrebbe essere una francese una di quelle, ho sussurrato. Ah, l'uccello lo si conosce dal volo. Si vede che le unghie ce le ha a guzze. Spiegami un po' adesso cosa significa ogni giro di roulette e come si punta. Ho cercato di spiegare come meglio potevo alla nonna cosa significavano tutte quelle combinazioni di puntate. Rouge e noir, perre e ampère, manque e passe. E perfino varie sfumature nel sistema delle combinazioni. La nonna ascoltava attentamente, faceva domande e mandava tutto a mente. Naturalmente potevo portare subito degli esempi per ogni sistema di puntata, così che molte cose si imparavano e si mandavano a mente molto presto e facilmente. La nonna è rimasta molto soddisfatta delle mie spiegazioni. Ma cos'è questo zero? Ecco che proprio adesso quel croupier dai capelli ricicolo più importante ha gridato zero. E perché ha rastrellato tutto quel che c'era sulla tavola? Ma guarda che mucchio di soldi si è preso. Come mai? Lo zero, nonna, significa vincita per il banco. Se la pallina va a finire sullo zero, tutto quel che si trova sul tavolo senza distinzione appartiene al banco. È vero che alla fine si gioca un colpo in più per dare la vincita, ma in compenso il banco non paga niente. Come sarebbe? E io non prendo niente? No, nonna, ma se lei ha puntato sullo zero e lo zero esce, allora le pagano 35 volte la posta. Come? 35 volte? Ed esce spesso? E perché questi sciocchi non ci puntano? Ci sono 36 probabilità contrarie, nonna. Ma che sciocchezze! Potapic! Potapic! No, aspetta, ho del denaro con me, ecco. Così dicendo, la nonna ha tirato fuori di tasca un portamonete pieno zeppo e ne ha tirato fuori un Federico. Ecco, puntalo subito sullo zero. Nonna, ma lo zero è uscito adesso e quindi ora per un pezzo non uscirà. Lei perderà molte puntate, aspetti almeno un po'. Sono tutte chiacchiere, punta! Mi scusi, ma forse non uscirà prima di sera e lei perderà delle migliaia. Sono cose che sono già successe. Sciocchezze! Sciocchezze! Chi ha paura del lupo non vada nel bosco. Ebbene, abbiamo perduto, punta ancora! Abbiamo perso anche il secondo Federico e ne abbiamo puntato un terzo. La nonna non riusciva a star seduta dall'agitazione, fissava con gli occhi scintillanti la pallina che saltellava da un numero all'altro della ruota che girava. Abbiamo perso anche il terzo Federico. La nonna pareva fuori di sé. Non riusciva a star ferma. E quando il croupier annunciò 36 invece dell'atteso zero, ha picchiato perfino il pugno sul tavolo. Ma guarda un po', si riscaldava la nonna. Vorrà uscire o no questo zero maledetto? Non voglio più vivere! Se non lo vedo uscire starò qui finché non esce. È tutta colpa di quel maledetto croupier riccioluto se non esce mai. Alexei Ivanovic punta due monete d'oro in una volta. Hai già perduto tanto che anche se esce lo zero non vinciamo niente. Ma nonna, punta, punta! Non sono denari tuoi! Ho puntato due Federici. Per un pezzo la pallina ha volato sulla ruota, poi ha cominciato a saltare da un numero all'altro. La nonna stava lì come impietrita stringendomi la mano e a un tratto tac. Zero ha annunciato il croupier. Lo vedi? Lo vedi? Ha annunciato la nonna, voltandosi di colpo verso di me, tutta allegra e raggiante in viso. E io te l'avevo detto, te l'avevo detto! È stato il signore stesso che mi ha consigliato di puntare quelle due monete. Beh, e adesso quanto mi spetta? perché non me li danno subito? Potapic! Marfa! Dove siete? E dove si sono cacciati tutti i nostri? Potapic! Potapic! Più tardi, nonna, ho sussurrato io. Potapic è lì sulla porta e qui non lo faranno venire. Guardi, nonna, le danno i soldi, li prenda. Hanno porto alla nonna un pesante involucro cilindrico suggellato, ricoperto di carta azzurra, con cinquanta federici e in più le hanno contato venti federici sciolti. Io ho raccolto tutto il mucchio con la paletta davanti alla nonna. Faites les jeux, messieurs! Faites les jeux, messieurs! Rien ne va plus! Ripeteva il croupier, invitando i giocatori a puntare e accingendosi a far girare la ruota. Signore e di io abbiamo fatto tardi. Ecco che gira. Punta! Punta! Si agitava la nonna. Su, presto, non perdere tempo! Insisteva spingendomi con tutte le sue forze, quasi fuori di sé. Ma su cosa devo puntare, nonna? Sullo zero! Sullo zero! Di nuovo sullo zero! Punta quanto più puoi! Quanto abbiamo in tutto? Settanta federici! Non c'è da fare economia! Punta venti federici per volta! Ma, nonna, ritorni in sé. Capita che lo zero non esca per duecento colpi di seguito. Le assicuro che lei ci perderà tutto il suo capitale. Non stare a chiacchierare! Punta! Senti come parla Vambera! Lo so io quel che faccio! E la nonna si mise addirittura a tremare dall'eccitazione. Secondo il regolamento non si può puntare più di dodici federici in una sola volta sullo zero, nonna, e io li ho puntati. Come non è permesso? È una bugia, non è vero? Musier! Musier! E così dicendo, la nonna si è messa a spingere il croupier che le sedeva accanto e si accingeva a far girare la ruota. Combien zero? Douze! Douze! Mi affrettai a tradurre la domanda in francese. Oui, madame, ha confermato gentilmente il croupier. Così come ogni singola puntata, secondo il regolamento, non può superare i quattromila fiorini, ha aggiunto per chiarire meglio. Beh, non c'è nulla da fare, puntane dodici! Le jeu est fait! Ha gridato il croupier. La ruota ha girato ed è uscito il tredici. Avevamo perso. Ancora, 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 punta ancora! Gridava la nonna. Io ormai non mi opponevo più e stringendomi nelle spalle ho puntato altri dodici federici. Questa volta la ruota ha girato per un pezzo. La nonna tremava addirittura, seguendola con lo sguardo. Possibile che lei si aspetti davvero che esca ancora lo zero? Pensavo, guardandola meravigliato. Sul suo viso si leggeva l'assoluta certezza di vincere. La convinzione incrollabile che ora il croupier avrebbe gridato, zero! La pallina si è fermata in una casella. Zero! Ha gridato il croupier. Hai visto? Ha gridato la nonna rivolgendosi verso di me con una frenetica espressione di trionfo sul viso. Era un giocatore anch'io. Me ne ero accorto in quel preciso momento. Le braccia e le gambe mi tremavano e la testa mi girava. Naturalmente era un caso raro che lo zero fosse riuscito tre volte in una decina di colpi. Ma in fondo non c'era nulla di straordinario. Io stesso, due giorni prima, ero stato testimone del fatto che lo zero era uscito tre volte di fila e in quell'occasione uno dei giocatori che annotava puntualmente tutti i colpi sulla carta aveva dichiarato ad alta voce che soltanto il giorno prima lo zero era uscito solo una volta in 24 ore. La nonna, essendo la persona che aveva fatto la vincita più alta, è stata pagata con un'attenzione e una cortesia tutta particolare. Doveva ricevere esattamente 420 federici e cioè 4000 fiorini e 20 federici. 20 federici le sono stati consegnati in oro e i 4000 fiorini in biglietti di banca. Ma questa volta la nonna non ha chiamato Potapic. Era interessata a ben altro. Non dava più neppure spinte e non tremava più, almeno esteriormente. Essa, se così posso esprimermi, tremava dentro. Sembrava tutta concentrata su un punto, come se prendesse la mira. Alexei Ivanovich, lui ha detto che non si possono puntare più di 4000 fiorini per volta. Beh, prendi questi 4000 e puntali sul rosso. Ha deciso la nonna. Era inutile cercare di dissuaderla. La ruota ha preso a girare. Rouge! Ha annunziato il croupier. Avevamo di nuovo vinto 4000 fiorini, quindi in tutto facevano otto. Dammene qua 4000 e gli altri quattro puntali ancora sul rosso. Ha detto la nonna in tono di comando. Ho puntato di nuovo 4000 fiorini. Rouge! Ha annunziato di nuovo il croupier. e in tutto fanno dodici. Dameli qua tutti. Loro mettilo qui nel borsellino e i biglietti riponili. E ora basta. Si va a casa. Tirate indietro la poltrona. Undici. La poltrona è stata trascinata fino alla porta, all'altra estremità della sala. La nonna era raggiante. Tutti i nostri le si sono affolati in torno.